Stamattina mega pacco da parte di Temu Temu per chi non lo sapesse in breve è un'applicazione che ha prodotti a basso prezzo e in più vi lascio anche un codice sconto del 30% ma adesso vi mostro cosa io ho preso e vi allego anche i prezzi per farvi capire innanzitutto come prima cosa volevo mostrarvi questa borsa a forma di palla da basket che ho scelto con il rosa bellissima e poi queste pantofoline con lo smile adatte a quest'inverno io ho già freddo in realtà mia a prova e subito ha rubato la pantofola eccola comunque è un ordine molto vario quindi vedrete varie cose ma per la maggioranza vedrete beauty per i trucchi e qualsiasi altra cosa il mio preferito è questo qui tutto peluche e poi al secondo posto mettiamo questo qui per i pennelli che è adatto magari a chi come me viaggia tanto e quindi deve accumulare spazio in valigia mettendosi tantissimi beauty poi questo qui ho preso con il panna che presenta due scompartimenti e guardate come è capiente vi giuro veramente è molto capiente ed il materiale è ottimo poi ho preso questa borsettina perché non avevo borsettine con questi tonalità di colori pastello quindi azzurro e rosa e anche questa molto molto capiente infatti è una cosa che mi è piaciuta molto di questi prodotti ritornando ai beauty ho preso questo qui che utilizzerò sicuramente per mettere i prodotti della skin care che ha questa forma strana proprio per essere molto molto capiente e tra l'altro non occupa tanto spazio in valigia continuiamo e qui invece passiamo al make up infatti io contentissima innanzitutto ho preso questi due barattorini di spugnette io ne ho già presi su temo di altri e queste spugnette sono ottime si inumidiscono benissimo e stendono bene i prodotti una cosa che volevo provare erano i pennelli infatti ho preso sia questi qui con il color panna e questi di un'altra tonalità e ovviamente se prendiamo i pennelli tra l'altro ho preso anche questo qui per la cipria prendiamo anche il cosino per pulirli perché io li pulisco almeno una volta a settimana guardate il carino super comodo basta inumidirlo e lavare i pennellini con un solvente poi ho preso queste spugnette che utilizzo per la cipria è un pacco da 50 super super comodo e sono morbidissime ed ora passiamo ai trucchi io ho preso tre palettes tra cui la prima è questa qui piena di shimmer ragazzi è fantastico non vedo l'ora di provarli e ho preso un massaggiatore per il cuoio capelluto ragazzi è utilissimo per far crescere i capelli poi ho preso questi pennelli che andarono super virali per stendere il fondotinta e fare effetto mascherone a me è quello che serve ma non è finita qui come vi dicevo ho preso altre palettes tra cui questa qui e ne ho preso anche la stessa ma mini size da viaggio sempre con degli shimmer all'interno una cosa comodissima è questo cuoricino dove io stendo fondotinta correttori e questi pennellini che utilizzo magari per gli shimmer appunto la cosa più particolare che troverete su Temu secondo me sono queste pinze per i capelli questa qui maculata la abbinerò sicuramente a un paio di occhiali che ho identici e sempre per chi viaggia queste porta spugnette nel frattempo mia ruba borse eccetera per la casa invece ho preso questo tappetino che metto nel bagno appunto quando esco dalla doccia e questo qui che è un porta biancheria diciamo magari da mettere in lavanderia ovviamente vi stupisco guardate che bello questo bracciale sembra proprio in argento guardate che carino costa pochissimo e poi infine ho preso questo cuscinetto a forma di nuvola super morbido bianco e questo porta oggetti diciamo dove all'interno si mettono i dischetti struccanti eccetera grazie a tutti grazie a tutti